Non siete stato voi Non siete stato voi Siete stato voi Siete stato voi Che prendate con un frango di vitretta Di far luce sulle vostre vite oscure Non siete stato voi Che vorreste dare voce a quotidiani di paz Non siete stato voi Non siete stato voi Oggi i stati di generale nello sfruttamento partono anche dagli Atenei, dove tantissimi studenti universitari, decine di migliaia, molto spesso sono costretti a dirocini che non c'entrano nulla con i percorsi formativi che fanno, molto spesso sono costretti a fare turni di notte, turni anche quando sono malati, senza ferie, senza malattie, per sostituire anche i lavoratori indipendenti e gli imprenditori sfruttano questi studenti, questi dirocinanti andando a ridurre il costo del lavoro. Noi non ci siamo neanche da queste università che negli ultimi anni sono state definanziate, sono state impoverite, portiamo il nostro rito di battaglia, vogliamo dire università gratuita perché i costi dell'istruzione sono sempre più inaccessibile tanti, le tasse universitarie aumentano sempre di più, soprattutto per i fuoricorto, soprattutto per il mio considerato poco perinevole, vogliamo più borse di studio, vogliamo più diritto allo studio, le restenze universitarie che ad esempio stanno nelle nostre città, non ci bastano, sono troppo poche, non possiamo permettere che una generazione intera non possa vedere la mia prospettiva di vita in maniera limitosa, in maniera decente per colpa dei finanziamenti e dei tagli che vengono portati avanti e che portano avanti questi governi, per questo diciamo forte, riduciamo i costi dell'istruzione, garantiamo a tutti un futuro, garantiamo a tutti una prospettiva di vita dignitosa.